Vedete cari amici, la mente dice sì e il cuore dice assolutamente sì, riguarda questa meravigliosa macchina, una Maserati, una Maserati, una Maserati, a partire da 68 mila euro cari amici, io lo capisco è che la mente dice sì e il cuore dice assolutamente sì, sono d'accordo, però bisogna vedere pure quello che dice il portafoglio, io però avrei fatto una pubblicità diversa, avrei fatto una pubblicità diversa cari amici, perché io cari amici conosco il patriarcato, conosco il patriarcato perché c'è questa mia opera, capito? In lingua inglese, sul mondiale web store, iTunes della Apple, so un patriarco, tu patriarco, io conosco il patriarcato, so come fanno le cose in patriarcato e io saprei fare un marketing migliore, altro che la mente dice sì e il cuore dice assolutamente sì, ma qua manca l'elemento fondamentale, il portafoglio, il portafoglio, io avrei fatto un marketing diciamo più sensato, più sensato, guardate che bella questa, bella eh, guardate quanto è bella, Maserati Ghibli ha partito da 68 mila euro, io avrei lasciato perdere la mente e il cuore, perché qua non c'entrano la mente e il cuore, avrei detto semplicemente, semplicemente, con una macchina così, aprite le donne ai vostri piedi, questa sì che è una bella, con una macchina così, avrete le donne ai vostri piedi, beh se poi a guidarla fosse una donna, a comprarla fosse una donna, allora io avrei cambiato pubblicità, perché le donne non hanno problemi ad avere gli uomini ai loro piedi e gli uomini ai piedi delle donne ce vanno comunque, ce vanno, capito? Cioè di certo per portarsene a letto, però ecco, un uomo, un uomo però con questa macchina ha le donne ai suoi piedi e non è facile avere le donne ai propri piedi, eh, perché se uno guida questa macchina, sta al volante di una macchina come questa, le donne pensano che abbia un portafoglio ben nutrito, ben nutrito e in patria il caso ciò che conta è il portafoglio, le misure del portafoglio e quante volte vi ho detto che le donne mica vanno da Berlusconi perché è bello, le donne vanno da Berlusconi perché c'è un portafoglio molto affascinante, molto affascinante, mi pare che ci fu nel passato un film intitolato Il fascino borghese della borghesia, io direi il fascino borghese del denaro, il fascino misterioso del denaro e tutto è spiegato in questa opera, cari amici, un'opera mondiale ormai, io la chiamo la nuova Bibbia dell'umanità, so matriarchi tu patriarchi e anche la stessa Maserati potrebbe utilizzare quest'opera per fare un marketing di migliore, io stesso potrei fare un marketing migliore con una macchina come questa, chi è che non vorrebbe essere al volante di una macchina come questa? Cosa c'entra a dire la mente dice sì, il cuore dice assolutamente sì, ma no, dirottiamo, dirottiamo, postiamo l'attenzione, con una macchina come questa tutte le donne saranno ai tuoi piedi, ecco come si fa al marketing, ecco come si fa al marketing, ma anche la Maserati avrebbe tutto da guadagnare, a prendere me, 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 come testimonial, perché io sono l'autore di quest'opera, capito? Sono l'autore di quest'opera mondiale, io la chiamo la nuova Bibbia del patriarcato, ok cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.